Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che sono attiva anche su Facebook. Vi lascio il link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. È l'8 novembre 2021, ci troviamo nel Pavese. Un uomo di nome Luigi Criscuolo, detto anche Gigi Bici, commerciante di biciclette di 60 anni, scompare. Gigi è uscito dalla sua abitazione di Viale Cantonticino a Cura Carpignano, al volante della sua polo bianca. Un'ora più tardi, il suo cellulare risulta staccato. L'auto viene ritrovata nel tardo pomeriggio dello stesso giorno, parcheggiata in un boschetto alla periferia di Calignano, frazione di 500 abitanti nelle campagne pavesi. Le ricerche di protezione civile, vigili del fuoco e cani molecolari si concentrano per settimane, soprattutto nella zona del ritrovamento dell'auto. Alcuni testimoni, settimane più tardi, affermeranno di aver visto Gigi poco prima che svanisse e riferiscono che sembrava preoccupato. Si sa con certezza che l'uomo stava attraversando un periodo di forte difficoltà economica. Pare avesse molti debiti, soldi da restituire che potrebbero rappresentare il nodo attorno a cui ruota il giallo. Gli investigatori non trascurano nessuna ipotesi dal momento che un finestrino del veicolo è stato trovato rotto ed è presente una macchia di sangue sui resti del vetro. Dentro la macchina sono state recuperate anche le due stampelle usate abitualmente dal commerciante per deambulare. I figli di Gigi fanno diversi appelli in tv per scoprire la verità sulla sparizione del padre e partecipano attivamente alle ricerche. Gigi è molto conosciuto a Pavia, quindi tappezzano la città con sue fotografie. Lunedì 20 dicembre si arriva a una svolta nel caso. A Caligano, frazione di cura carpignano, viene trovato il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione. I familiari di Gigi sono quindi convocati per un possibile riconoscimento e i tatuaggi sul collo tolgono ogni dubbio. È lui. La morte sembra risalire a diverso tempo prima, il che rende impossibile stabilire le cause dell'eccesso se non attraverso l'esame autoptico. La procura sta indagando per sequestro di persona, omicidio e occultamento di cadavere. Il modo in cui è stato ritrovato il corpo fa propendere decisamente per la morte violenta. Due elementi in particolare portano a pensare all'omicidio. Il cadavere era coperto da un cumulo di fogliame e sterpaglie e sembra sia stato scaricato proprio lì da pochi giorni. Il luogo del ritrovamento resta ancora un punto interrogativo e a ridosso del cancello posteriore di un convento trasformato in magione. In più l'assassino chi ha agito per lui ha suonato al citofono della fisioterapista Barbara Pasetti, 44enne, figlia di una ricca famiglia di imprenditori nel settore caseario. Dunque l'assassino le ha detto vada a vedere davanti al suo cancello ci sono delle cose che le possono interessare. La signora Pasetti come ha riferito agli investigatori e ai cronisti all'inizio ha pensato fosse uno scocciatore intento a fare uno scherzo. Poco dopo a fare la macabra scoperta è stato purtroppo il figlio della donna, un bimbo di otto anni mentre giocava a pallone. Barbara ha sottolineato di non centrare nulla con questa storia. È terrorizzata, suo figlio ha gli incubi e chiede di essere lasciata stare. Afferma di non conoscere Gigi e la sua famiglia. Dopo queste dichiarazioni la donna chiude le serrande e lascia per qualche giorno il paese. Perché che ha portato il cadavere ha scelto di lasciarlo proprio in quel punto la zona non risulta coperta da telecamere che invece sono presenti qualche centinario di metri prima in paese. Uno dei residenti in quella cascina sentito dagli investigatori ha assicurato che nel punto del ritrovamento qualche giorno prima non c'era assolutamente nulla. L'intero territorio comunale era stato battuto da ricercatori che avevano setacciato campi e aree limitrofe senza esito. Secondo gli inquirenti Gigi sapeva che quell'8 novembre stava andando incontro a qualcosa di pericoloso. Aveva appuntamento per la restituzione di un ingente debito con chi l'ha sequestrato ed ucciso. Inoltre nei giorni successivi al ritrovamento del corpo l'assassino o gli assassini di Gigi hanno fatto altre mosse. Hanno imbucato nella cassetta delle lettere di Barbara Pasetti una foto del cadavere di Gigi. Poi le hanno recapitato una lettera anonima destinata però alla figlia della vittima Katia. Quella lettera è ovviamente al vaglio della scientifica e conterrebbe il movente dell'omicidio. Un debito da 3.000 euro. Gigi sarebbe stato ucciso per aver fatto sparire il bottino di una rapina messa a segno nell'oltrepopavese. Rapina a cui lui non aveva partecipato. Il suo compito era di custodire i soldi, forse occupandosi anche della ricettazione. La lettera a toni crudi diretti è scritta il computer in un italiano stentato che tradisce le origini straniere, probabilmente russe, di chi scrive. Ma può anche essere che il testo pieno di errori sia una messa in scena per depistare gli inquirenti. Il movente però sembra avere le prime conferme. Dopo il misfatto gli autori della rapina avevano chiesto conto della refurtiva, ma Gigi stando a quanto accusa l'autore della lettera anonima si sarebbe intascato tutto. La mattina della scomparsa la vittima ha incontrato i suoi assassini e detto loro di non avere più quei 300.000 euro perché gli erano stati rubati. Secondo le ipotesi degli inquirenti a questo punto Gigi sarebbe stato picchiato a sangue caricato su un furgone. Ma non ci sono immagini di telecamere a conferma e nascosto in un luogo sconosciuto fino alla data di restituzione del debito fissata proprio per il 20 dicembre, ossia il giorno del ritrovamento del cadavere. Dopo il primo esame del corpo sembrerebbe emergere l'ipotesi della morte provocata da uno sparo all'altezza del volto. Il 20 gennaio Barbara Pasetti, la madre del bimbo che ha trovato il corpo di Gigi Bici, viene arrestata per tentata estorsione e portata nel carcere femminile Piccolini di Vigevano. Barbara, che ha sempre negato di conoscere Gigi o di essere in qualche modo coinvolta nel caso, ha aperto le porte della propria villa alle forze dell'ordine che giovedì 20 gennaio, alle prime luci dell'alba, hanno iniziato a perquisire ogni stanza e gli spazi esterni. Diverse squadre di vigili del fuoco, carabinieri e polizia sono andate alla ricerca di elementi utili alle indagini nel luogo del rinvenimento del cadavere e in casa. Durante questo primo intervento delle forze dell'ordine vengono repertati diversi oggetti. Tra i più importanti, un frammento di proiettile, i telefoni e i computer della donna confiscati per essere analizzati. Il cellulare di Gigi è scomparso e l'arma del delitto non si trova. Nel punto in cui è stato scaricato il corpo, i consulenti botanici hanno analizzato le tracce nel terreno transennato dal 20 dicembre. La domanda è, in che rapporti erano Gigi Bici e Barbara Pasetti? Gli inquirenti cercano di ricostruire i contatti, le frequentazioni della vittima per collegare tutti i pezzi di un puzzle che si sta dimostrando sempre più complicato. Nel primo pomeriggio del 20 gennaio, Barbara Pasetti e l'ex marito sono stati accompagnati in questura per rispondere alle domande degli investigatori. Successivamente la donna è finita in manette, poiché, secondo l'accusa, ha chiesto ai cari di Gigi 290.000 euro per liberare l'ostaggio. Gli elementi delle perquisizioni da parte della scientifica e gli esiti dell'autopsia eseguita sul corpo di Gigi aggravano la posizione della donna. Nella lettera sgrammaticata scritta forse dalla stessa Barbara per divistare le indagini è descritta nel dettaglio l'esecuzione di Gigi con quell'unico colpo sparato in faccia. Chi poteva saperlo se non chi ha commesso il delitto o ne conosceva tutti i particolari? Gli inquirenti a questo punto stanno cercando di capire chi possa aver aiutato Barbara. La donna ha infatti un fisico piccolo e gracile e non può aver affrontato da sola Gigi, un uomo forte e corpulento. Nel frattempo Katia Chris Cuolo, la figlia di Gigi, rivela di aver ricevuto diverse telefonate e due lettere minatorie. Katia quindi dice Era lei, Barbara, che camuffava la voce con accento dell'est. Al telefono mi aveva detto di recuperare due lettere con informazioni su mio padre, la prima il primo dicembre in una cabina telefonica, la seconda il 5 dicembre davanti al portone di una chiesa. Io ho sempre avuto sospetti su di lei. In procura sono convinti che la firmataria delle lettere sgrammaticate, 4 in totale, sia Barbara Pasetti che risulta essere fisioterapista senza esserlo davvero. La donna insomma non ha mai praticato questo lavoro. Nelle emissive si fa riferimento a un unico proiettile, il proiettile che ha ucciso Gigi. Barbara ha conosciuto Gigi in estate legandosi a lui, forse anche sentimentalmente, e continua a dirsi innocente. L'avvocato che ha dialogato con Barbara nel carcere di Vigevano sostiene che la donna si è dimostrata serena e tranquilla. Si è professata estranea ai fatti, ma non ha Gigi, a cui avrebbe anche chiesto di eliminare l'ex marito per punirlo di imprecisati maltrattamenti. Il 23 gennaio emerge che c'era un altro uomo a bordo dell'auto di Gigi. Un uomo che indossava una maglietta rossa e dei guanti bianchi. Le telecamere infatti hanno ripreso l'appolo di Gigi con a bordo una persona che potrebbe quindi rivelarsi fondamentale per la risoluzione del caso. In quel momento alle 10.44 dell'8 novembre probabilmente Gigi era già stato ucciso. Si sa che l'uomo è stato assassinato direttamente il giorno della scomparsa, l'8 novembre, e che il suo cellulare ha smesso di funzionare alle 10.34. La polo guidata da Gigi era arrivata all'appuntamento che la vittima aveva forse con Barbara Pasetti e i suoi assassini. I movimenti dell'ex commerciante di biciclette sono stati ricostruiti dagli inquirenti. Alle 10.34 il segnale del suo cellulare aggancia la cella nei pressi del piazzale del cimitero della frazione Barona di Albuzzano, poco lontano da Calignano, dove probabilmente doveva incontrare qualcuno che lo preoccupava. La sua polo è stata poi inquadrata dalle telecamere di Calignano l'ultima volta dieci minuti dopo, alle 10.44. Quella stessa mattina, al volante però, c'era un altro uomo, dall'età apparente di 40-50 anni, che indossava una maglietta rossa e dei guanti bianchi. La stessa persona ha guidato la polo lungo la strada di campagna, dove sempre l'8 novembre è stata trovata la macchina con un vetro rotto e macchie di sangue nell'abitacolo. Dalle indagini a questo punto arriva la conferma che è stata proprio Barbara a scrivere le lettere sgrammaticate ritrovate in una cabina telefonica e sotto lo zerbino di una chiesa a Favia. Era stata lei a stamparle in una copisteria del centro commerciale Carrefour. Vi leggo uno stralcio di una delle lettere. Voi date 350.000, se no noi iniziare a prendere compagno Katia, sorella Stefania, figli piccolini e uccidere e fare piccoli pezzi per cibo per maiali. Alle 11 del 13 dicembre 2021, una delle stampanti della copisteria del centro commerciale Carrefour produce questo testo destinato alle figlie di Gigi Bici. Ai poliziotti l'impiegato della copisteria descrive la cliente che gli aveva girato il documento per email. La stampante ha conservato l'indirizzo che è pasetti.barbarachiocciolalibero.it. Quella donna era proprio Barbara. Sicurissima ad essere più furba degli investigatori, la donna ha commesso degli errori, cristallizzando la sua voce in telefonate, oggetto di intercettazione con riferimenti diretti alla morte di Gigi. Sembra che parlando con l'ex marito Gian Andrea Toffano, la donna abbia detto, so di dover andare all'inferno perché ho fatto uccidere un uomo. In una telefonata all'ex ha fatto riferimento alla modalità del delitto quando ancora si ignoravano le cause della fine di Gigi, in quanto il cadavere non era ancora stato trovato. In un'altra conversazione, chiamando da una cabina telefonica la figlia di Gigi, ha in vano alterato la propria voce con l'obiettivo di apparire un uomo dell'est Europa, sollecitando un riscatto. Ci sono poi delle telefonate che Barbara ha fatto agli amici della vittima con il suo cellulare nei giorni successivi all'8 novembre. L'intento di quelle telefonate era di trovare qualcuno che finisse il lavoro che Gigi non aveva portato a termine. Va sottolineato che quei numeri erano sicuramente nella rubrica del telefono dell'uomo, anche se il cellulare non è stato trovato. Il sospetto è quindi che la donna abbia avuto accesso ai contatti presenti nel telefono di Gigi Bici. Infine, in una lettera scritta al computer e inviata a se stessa, spacciandola per una missiva spedita da presunti malavitosi russi, ha parlato di morte provocata da un proiettile. Barbara Pasetti resta in carcere, accusata di tentata estorsione ai familiari di Gigi Bici e indagata per omicidio in concorso ed occultamento di cadavere, aiutata da qualcuno. Ne sono certi gli inquirenti e ne è certa anche Katia, la figlia di Gigi, che ha ribadito come il padre fosse un uomo corpulento di oltre 100 kg, difficile da affrontare e soprattutto da spostare a peso morto una volta ucciso. E poi quel cellulare con il numero addirittura in chiaro che Barbara usava per fare chiamate e mandare messaggi che sembravano seguire il copione di un thriller. Katia Criscuolo ribadisce il ruolo centrale della donna raccontando che Barbara, nel pomeriggio dell'8 novembre, il giorno della scomparsa, e poco prima che venisse ritrovata la polo bianca di Gigi, ha contattato un amico di Gigi chiedendo aiuto. Aveva infatti saputo che Gigi era in difficoltà, che era stato picchiato e gli avevano persino spaccato la mandibola, tanto che doveva bere con la cannuccia e non poteva parlare, tutto dallo stesso numero di cellulare. Barbara Pasetti aveva in mente un piano ben preciso. Ciò che Gigi non aveva portato a termine, ossia il terribile compito di eliminare il marito, ora spettava un altro conoscente, Ramon Christian Pisciotta. Barbara aveva detto a Ramon che Gigi aveva bisogno di aiuto perché era stato vittima di un violento pestaggio. Poi aveva chiesto un appuntamento al ragazzo nei pressi del cimitero di Pavia per una questione da portare avanti. I due in effetti si incontrano e Barbara Pasetti va subito al sodo. Ramon Christian Pisciotta deve proseguire il lavoro non portato a termine da Gigi, ovvero di sistemare il suo ex marito. Ramon però si rifiuta. Il primo febbraio 2022 gli agenti della squadra mobile con il personale della polizia scientifica e delle unità cinofile tornano per accertamenti sia all'interno della villa che nel cortile e trovano qualcosa. Una pistola all'interno del quadro del sistema di videosorveglianza al primo piano dell'abitazione di Calignano. L'arma ha ancora cinque cartucce inesplose nel tamburo. Accanto ad essa gli investigatori hanno rinvenuto anche un sacchetto con altri 19 proiettili all'interno. La domanda è, si tratta della stessa arma con cui è stato ucciso Gigi? La scientifica deve anche stabilire se l'arma è compatibile con il frammento di proiettile ritrovato nell'area dell'abitazione il 20 gennaio, ossia il giorno dell'arresto di Barbara Pasetti. Ma non è finita qui. Punta anche la cassetta da lavoro di Gigi Bici. L'uomo quindi è entrato anche in casa di Barbara Pasetti dove ha lasciato i suoi attrezzi. L'ex marito di Barbara finalmente nega categoricamente di averla mai maltrattata. Barbara invece stando agli inquirenti voleva sistemarlo e per questo ha contattato prima Gigi e poi altri uomini. Il legale di Toffano, ex marito di Barbara, sottolinea che non esiste nessun tipo di coinvolgimento dell'uomo nella vicenda dell'omicidio di Gigi Bici. La domanda è, perché Barbara prima sostiene con assoluta fermezza di essere in ottimi rapporti con l'ex marito e poi ingaggia alcune persone per dargli una lezione? Per Katia, la figlia di Gigi, molte cose proprio non tornano. Il dettaglio più importante è che Toffano non è andato dalla polizia dopo che la sua ex moglie al telefono gli ha detto chiaramente, soli dover andare all'inferno perché ho fatto uccidere un uomo. Perché? Gli inquirenti cercano inoltre di fare luce anche su un altro filone di indagine. Gianna Andrea Toffano, ex marito di Barbara Pasetti, lunedì 7 febbraio, ha portato in questura alcuni referti medici. In due occasioni, infatti, l'uomo ha accusato Malori dopo aver bevuto un caffè in compagnia dell'ex moglie. Pura casualità o presunti tentativi di avvelenamento? Ormai dalle indagini è emerso che Barbara Pasetti avesse chiesto prima a Gigi e poi ad altri conoscenti di quest'ultimo di sistemare l'ex marito. Il motivo, secondo Toffano, è semplice. La Pasetti era interessata all'eredità dell'ex. La madre di Gianna Andrea Toffano, infatti, è morta il 4 dicembre 2020 e ha lasciato al figlio quattro appartamenti e quattro garage a Milano, a Brescia, a Lecco e a Finale Ligure. L'uomo chiarisce che lui e Barbara sono ancora legalmente sposati e se lui fosse morto la donna avrebbe potuto ereditare questi beni. Il 23 febbraio emerge che alla guida dell'auto di Gigi, dopo la sua morte, c'era una donna. La persona con la maglia rossa e i guanti bianchi è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza di Calignano, paese in cui si trova la grande magione di Barbara Pasetti. Dunque non si trattava di un uomo corpulento, ma di una donna che la mattina di lunedì 8 novembre, il giorno della scomparsa dell'uomo. Alle 10.44 si trovava alla guida dell'Apolo Bianca della vittima. Resta ora da chiarire se la donna sull'auto della vittima sia Barbara Pasetti. Il 9 marzo le indagini della scientifica portano a una svolta. Nell'ex monastero del 600, immerso nelle campagne pavesi di proprietà di Barbara, sono state trovate impronte che segnalano un DNA maschile, materiale biologico che viene confrontato con i DNA dei tre uomini che ruotano intorno alla figura della donna. Franco Pasetti, il padre, Gian Andrea Tuffano, l'ex marito, e Ramon Pisciotta, l'amico di Gigi Bici. Quella traccia biologica si rivela essere un DNA misto, in parte della vittima, Gigi, e in parte di un altro uomo. Arriviamo al 6 maggio, quando emerge un nuovo elemento rilevante per il caso. Il proiettile che ha ucciso Gigi è simile a quello trovato durante i sopralluoghi nella magione di Barbara Pasetti. Secondo l'esame autoptico, Gigi è stato freddato con un colpo di pistola calibro 7,65 alla tempia sinistra a bruciapelo, a una distanza molto ravvicinata. La traiettoia del colpo è dal basso verso l'alto, tutti gli elementi che portano a confermare l'ipotesi dell'auto. Ne consegue che Gigi potrebbe essere stato ucciso mentre si trovava sulla sua polo bianca. Il vetro rotto e le tracce di sangue ritrovate all'interno dell'abitacolo e sui sedili sembrano confermare questa ipotesi. Secondo le indagini della procura, è stata Barbara Pasetti a uccidere Gigi, perché si è tirato indietro e non voleva terminare il compito che gli era stato assegnato. Uccidere l'ex marito della donna. Barbara, secondo gli investigatori, ha preso contatti con Gigi nel giugno del 2021, chiedendogli di collaborare per organizzare l'aggressione nei confronti dell'ex. Dopo aver dato un anticipo della cifra pattuita per il lavoro, la Pasetti presta Gigi il revolver calibro 7,65 con applicate due etichette adesive, con le istruzioni per la messa in sicurezza dell'arma. Arriviamo all'8 novembre quando Gigi cambia idea, non vuole più prestarsi al piano vendicativo della donna. Così prende la sua auto e raggiunge la grande villa di Calignano per comunicarlo a Barbara. Il cancello si apre, Gigi entra in cortile, abbassa il finestrino e restituisce l'arma alla donna che, su tutte le furie, esplode il colpo a bruciapelo contro la tempia sinistra dell'uomo. I vetri del finestrino in frantumi vengono in seguito trovati in una grata su un canale di scolo nel cortile di casa della Pasetti. Le indagini condotte dalla procura di Pavia con l'ausilio della polizia scientifica di Milano, coinvolta nella ricostruzione del caso, confermano anche che dello spostamento e occultamento del cadavere di Gigi si è occupata proprio la stessa Barbara. Lo ha trascinato sul retro del cascinale e coperto di sterpaglie, poi ha lavato il pavimento con parecchio lisoform per eliminare le tracce di sangue e spazzato nel canale i frammenti del finestrino. Il 28 gennaio 2023 viene reso noto che Barbara ha confessato, la donna ha spiegato agli inquirenti che si è trattato di un delitto d'impeto, di un episodio repentino e imprevisto. La confessione della donna risale al 5 ottobre 2022 e, vista la chiusura delle indagini, la procura ha deciso di renderla pubblica. Sempre ad ottobre, dopo la confessione, gli agenti della squadra mobile di Pavia sono tornati a casa della Pasetti e hanno sequestrato una bicicletta, una corda e una lettera per compiere indagini approfondite di natura dattiloscopica e genetico-molecolare. Sulla corda c'erano tracce di sangue, sembra che sia stata usata per trasportare il cadavere di Gigi Bici. La lettera, come chiarisce il quotidiano la provincia pavese, è un riconoscimento di debito messo per iscritto dall'ex marito della donna a favore della Pasetti che aveva prestato quel denaro. Arriviamo al 1 marzo del 2023. La procura di Pavia ha depositato la richiesta di rinviaggiudizio per Barbara Pasetti e, ovviamente, vi terrò aggiornati appena inizierà il processo. Detto questo, ho finito di parlare in questo video, spero che questo caso possa essere stato interessante per voi. Lo conoscevate e fatemelo sapere perché è relativamente recente come caso. E, onestamente, la cosa che mi viene da dire per questo caso è che Barbara Pasetti non è stata poi così intelligente e astuta nel muoversi per organizzare questo delitto e poi per depistare le indagini, insomma. Penso che la cosa più stupida che abbia fatto sia inviare quelle lettere da stampare a una copisteria. Meno male che c'è qualcuno che si fa beccare in poco tempo. Meno male, diciamo così. Detto questo, fatemi sapere voi che cosa ne pensate di questo caso qui nei commenti. Io nel frattempo vi mando un bacione e ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene, ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti!